Un buongiorno a tutti da Vrozov, qui teniamo i master in e-business and in translator tra i motivi per venire proprio qua a Vrozov primo, come vedete è una città bellissima e meravigliosa secondo è la Meeting Place, cioè la città degli incontri ed inoltre anche capitale della cultura 2016 che lascia il testimone alla nostra Matera e Dulcis in fondo un numero importantissimo c'è il 97% di occupati, quindi solo il 3% di disoccupazione questo che cosa significa? che chi vuol lavorare, lavora e chi vuol fare il disoccupato, continua a fare il disoccupato quindi venite in Polonia, venite qui a Vrozov the candy of toys Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!